daniel della seda questa sera a confronto metterà a confronto tre grandi produttori di spirito di vite ma da dove nasce questa questa idea nasce dal tu sai che da molti anni noi promuoviamo il made in italy alimentari la grappa rappresenta quanto di meglio esprime il territorio nei distillati nazionali e allora perché non portare la grappa che ha un po questa ricordo di così distillato che potevano gustare solo gli alpini e invece la grappa è un qualche cosa di estremamente moderno non è legato solo al genere maschile ma anche femminile ci sono grappe dure grappe morbide e soprattutto questo discorso è legato intimamente alla valorizzazione dei prodotti del nostro paese allora perché non puntare sulla grappa al pari del whisky scozzese o per esempio della vodka russa bravissimo e apprezzo anche molto questa scelta di daniel perché tutto sommato non si parla tantissimo di grappa secondo te per quale motivo perché è rimasta molto spesso così confinata entro le regioni di produzione dal piemonte al trentino come in questa occasione laddove per esempio non vengono così prodotte le grappe barricate il trentino ha una tradizione di grandi e importanti così vitigni autoctoni penso al nosiola penso ad altro genere anche di vitigni che hanno fatto la storia di questo pregiato distillato ebbene due anni fa abbiamo scoperto come la grappa la grappa fosse donna abbiamo scoperto le imprenditrici al femminile questa volta abbiamo pensato di occuparci dell'altra metà del cielo e quindi occuparci della grappa fatta dagli uomini da chi la grappa la fa per davvero e quindi abbiamo così costruito una serata insieme ai tanti appassionati cultori anche tutti coloro che intendono così conoscere da vicino una vera e propria valenza del nostro made in italy alla vigilia di provaina di ustendorf del vin italy di verona e non dimentichiamolo di sei mesi di expo che si terranno a milano e allora la grappa va sicuramente valorizzata incentivata e allora benvenuti nel salotto del passetto perché la grappa abbandona come diceva giustamente daniele gli alpini ma anche i contadini la gente che lavorava duro nei campi e la usava come risorsa energetica e diventa invece padrona dei salotti grazie daniele della e beviamoci una grappa non solo a fine pasto ma anche prima del pasto cin cin